Negli scorsi telegiornali ne abbiamo parlato delle decisioni di lunedì sera del Consiglio Comunale, mozione votata all'unanimità per cercare un po' di trovare degli incentivi fiscali per i gestori dei locali o chi ha comunque le famose slot machine. Continua un po' questa crociata di Italia dei Valori contro il gioco e l'azzardo, lo ricordate, l'avete anche visto, il convegno proprio organizzato. Siamo qui a presentare un po' quali sono i re, perché la mozione è un pezzo di carta, però bisogna cercare di metterli in pratica, che non resti solo un sì, tante cose votate da tutti. Allora, noi ci muoviamo su due canali direi, uno è quello locale e uno è quello nazionale, perché questi sono i due binari da seguire. A livello locale, l'ipotesi, e si è lavorato attorno alla mozione inizialmente presentata dall'opposizione, ma poi fatta proprio da tutta l'aula consigliare, l'ipotesi è quella di introdurre dei meccanismi di sgravo fiscale per quelle che sono le competenze del Comune, per tutte le attività commerciali che non hanno al proprio interno le slot machine. Questo è, come dire, rientra nelle competenze del Comune, pensiamo per esempio alla Tarsu per i bar, piuttosto che a una diminuzione delle tariffe per l'occupazione del suolo pubblico, perché chi rinuncia a introiti di dubbia, perlomeno dubbi da un punto di vista etico, è giusto che abbia dei ritorni da altri punti di vista, e in questo il Comune deve fare la sua parte. Questo è l'aspetto, diciamo, è l'aspetto locale. A livello nazionale serve una legge che metta al bando uno dei più potenti strumenti in mano della criminalità organizzata per ripulire denaro sporco e uno strumento di rovina della salute e della sicurezza delle persone. In ambito, però, pertamente proprio locale, come si concilia questo con le grandi strutture che abbiamo comunque in Slovenia, perché rischio che comunque la gente ritorni di là? Noi non possiamo entrare nella regolamentazione, nella fiscalità e nei programmi di altri paesi. Chiaro che noi abbiamo questa anomalia di fondo che è la vicinanza alla Slovenia che garantisce tutta una serie di svaghi, svaghi da un punto di vista ludico, che in Italia non ci sono. Su questo noi non possiamo intervenire, i dati sono già allarmanti, nel senso che Trieste soffre di meno, per esempio, il discorso slot machine, proprio perché noi abbiamo in Slovenia tante alternative alle slot machine. Però su quello che noi possiamo fare e sul nostro territorio è chiaro che cerchiamo di farlo. Poi, se noi riuscissimo, ma questo andrebbe fatto a livello governativo, a stipulare una sorta di accordo con i paesi limitrofi, in questo caso la Slovenia, per limitare la ludopattia, sarebbe più opportuno. In questo senso noi come Comune ci faremo in qualche modo garanti e interpreti. Però l'importante è essere operativi su quelle che sono le nostre competenze, in questo senso delle iniziative che stiamo entrando. E proprio lo dicevamo con Cettin, in origine questa mozione è stata presentata da Lo Bianco, per la futura libertà. Sì, sì. No, no, perché qua... Deve consigliare Michele. E ne parlavamo proprio con Cettin, la mozione in origine, votata poi da tutto, è stata presentata da Michele Lo Bianco di Futuro e Libertà. Perché abbiamo iniziato questa mozione con l'ospetto comunque della Slovenia, che per anni abbiamo saputo che tanti soldi vanno in Slovenia per il gioco razzardo? Allora, vi è un primo concetto che è quello educativo. Io penso che i legislatori nazionali hanno commesso un grandissimo errore nel trasformare il nostro stivale italico, la nostra amata patria, in un grande, grande casino. Io ricordo che c'era un grande dibattito se aprire 5 o 6 casino in tutta Italia e vi fu qui poi una levata di scudi a Trieste, in modo, ecco, lì sbagliato e da perdere tempo a decidere se 5 o 6 in tutta Italia, oggi si è trasformata l'Italia tutta in un grande casino. Per me gli legislatori hanno sbagliato, hanno completamente evidenziato una insensibilità assoluta dal punto di vista etico e morale, certo si fa cassa, però si fa cassa a spese di famiglie deboli, di persone deboli che vanno lì e giocano e poi si giocano tutto e con ricadute sul tessuto sociale. Da qui la mia mozione, che poi è stata, come dire, integrata da tutta una serie di emendamenti che a quel punto è divenuta una mozione di commissione consigliare. Non è un problema che dovrebbe essere affrontato in seno europeo proprio perché poi nelle aree di confine fai due metri e cambia tutto. Ma è ovvio che io non è che non sappia che ha neanche 6-7 minuti da dove siamo oggi a dove siamo adesso, c'è un casino, è vero, ma io devo anche pensare che ho un compito importante che è quello di essere un rappresentante delle istituzioni e come un rappresentante delle istituzioni non posso andare oltre certi codici etici e morali che la stessa Costituzione ci impartisce. Diciamo che magari la differenza sostanziale fra quella che è l'Italia, o tra gli esti in particolare, è la Slovenia e la Croazia e che comunque almeno in Slovenia e Croazia devi essere maggiorenne. Qui con la storia che appunto l'Italia è un grande casino, c'è una bella fetta di ragazzi sotto 18 anni che pensano, che vedono nelle slot machine la fonte di guadagno, il lavoro. Perché la slot machine oggi è per i ragazzi come ero io, anzi chiedo scusa, io andavo a giocare al flipper, ecco no? O mettevo i soldi nel jukebox. Dopodiché da qui, che è cosa diverso ovviamente, c'è chi vuole giocare, anche i ragazzini giocano. Insomma è un fenomeno fuori controllo, questo è il problema. E che consente con facilità, perché è vero che abbiamo a qualche chilometro il casino, ma lei capisce che scendere di casa e andare in un bar e fare una giocata è molto più semplice che prendere la macchina, andare oltre confine e giocare. Lì ci andavano proprio gli appassionati e appassionati. Qui si è consentito a chiunque di dire, boh, guarda provo e dopo di che una volta che provi sappiamo il gioco è come la droga, ti porta avanti e ti porta poi ad avere situazioni devastanti nel punto di vista di ordine anche pubblico, perché abbiamo una serie di rapine, di furti, di scippi, di cose per procacciarsi i soldi, per poi giocare, tutta una serie di situazioni di dipendenza, eccetera eccetera eccetera. Altra cosa è fino a qualche anno fa i gestori sia proprietari delle apparecchiature che i bar, cioè praticamente si facevano l'incasso con quello. Ebbè chiaro, questo è innegabile, però ecco una cosa citerei, coloro i quali hanno le macchinette, io non criminalizzo, attenzione il gestore del bar, perché è uno strumento di legge e quindi uno lo adopera, ed è ahimè una parte importante del suo budget, del suo piano economico di gestione del pubblico esercizio. Perciò ben chiara la situazione, ben chiaro, cioè chi ha il bar, chi ha la tabaccheria, chi ha la macchina, la slot machine, non è da individuare come responsabile di un processo negativo, è il legislatore che ha consentito e che non ha accompagnato poi fino agli enti locali, secondo me, la miglior garanzia e tutela di utilizzo. Per me, lo dico senza nessun timore, è sciagurata questa iniziativa che i nostri rappresentanti politici a livello nazionale hanno prodotto non so quando, perché penso qualche anno fa insomma. Senta il cartello da mettere davanti le slot machine per dire che il gioco fa male, non è una cazzata enorme. Ma anche sulle sigarette c'è scritto che provoca la morte, cosa vuole per me? Tutto aiuta, potrebbe anche essere interessante, ma insomma tutto aiuta.